Il fantasma di Parco Sempione a Milano sarebbe quello di una dama che si aggira nel parco, raccontata da testimoni. Sarebbe quello di una giovane donna con apichi neri e un velone che c'era il bulbo. La dama in questione non avrebbe un'identità. Sin dall'Ottocento si parla di lei. Oltre alla giovane donna, il parco ospiterebbe lo spettro di San Pedro da Rampugnano, che fu messa a lungo nel 1519, perché, creduta strega, tali apparezioni sarebbero molto frequenti all'alba e la sera. Grazie. 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 Grazie.